Ora qui abbiamo preparato un piccolo petto di pollo arrostito per Rossella alla piastra perché non le piace, l'involtino di pollo spellato con dentro una salsiccetta leggera arrotolato con il rosmarino, invece qui abbiamo una quiche di peperoni e zucchine con un sughetto fatto a base di panna parmigiano, sale alla violetta e un uovo che adesso viene messo in turno e diventa una bella quiche di verdure. Lì c'è anche un piccolo petto di pizze, perché la lampadina si è fulminata, c'è uno strudel di mele, fatte con mele, con la buccia o eccetera. Poi adesso prepariamo le pizze, sono praticamente quelle fatte con i fiori di zucca, però in questo caso vengono fatte con i fiori di borragine che contengono più ferro degli spinaci. E anche oggi abbiamo spesso poco e impiegato con poco tempo, insomma bastano passione e fantasia e un po' di denaro, parola di Federico!